Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 . e ci sono tutti i nostri spettatori, Il dono è stato inizialato e molto tardi a prima volta di Ocumenica, dopo 120 anni, quando si è avuto il suo rischio. Ci siamo arrivati in settimana inizialmente attraversi nell'amore, a dire, i l'amore, i pazriarchi, i mezcluoloi, che erano inizialmente iarici, e non sono alle loro amici. Ci sono attraversi. I ammigli di amore dell'amore alla mia, i capo, i capo, Grazie a tutti dei ricordi contendenti ricordi cosa altro che lo danne l'ebituto a squarevo, di cerferire lo solle tante i ricordi si stagionato, in cui trova dopo il numero pioggia allo ci sono state soliti professionisti e che non si chiama in cui all'eredo nei incendi i corretti уг agali ci sono di griglia ma East прилetti scendere questo dei benefici che i libri di essere dici, non c'è nessuno che non c'è i libri di più alti, che i libri dei libri di infetti, tutti i libri di autori e susnitutori, che sono credenti delle persone dell'intenzione del nostro paese di affidio. I libri di attenzione, ovvero che lì, che anche questo è il vostro cavolo che il ragazzo, ha studiato il nostro Paese, i libri di attenzione, ... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. , , , , a tutti. , 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 ,..., , ,..., ,, , , ,..., , , ,..., 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 ,, ,..., Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 il pubblico dell'Ellino, piazzomani da diversi ciklini, attraverso più, che sia inizia, attraverso, 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 Iniziamo che ci sono cose che abbiamo già già da qui. Nel cuore con il nostro amore, perché il tempo si è andato e non poterci. Iniziamo. Iniziamo. Mi chiamo il Giannis Niko, sono un musico e un giocatore. Voglio fare una paratitura, il mio padre Vassilio, che ha avuto in molti grandi anni, con il padre Porfusio e il padre Fraglio. ma che scopero di un stesso anno che ci aveva per il l'aerebbe cosa ti avete detto per il G. Iosèfto che hanno conoscimpato? Ho immaginato? Non è fatale, ho cominciato. Ma Roma è hai una forza di questi lati! Nè, che gli era già non interrogato! Nero G. Iosèfto che ha messo anche il G. Iosèfto che hanno conosciato cui si ti ha messo, pescato. Non mi piaccato per tutto tutti e preghi avvanzato. Ma il G. Iosèfto, non mi piaccato? E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? E' un po' che c'è 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 un po' di gl commits gridpro 그� manufacturers conc Ernestelet Dazar qui Obama sert a non c'è un po' che c'è un po' che c'è uno qui c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è uno e non mi parla di che non lo solle. Quindi ora, questo è stato un posto di figli, un posto di figli. E' un posto di figli. E' un posto di figli, e' un posto di figli, e' un posto di figli, di figli, che avevo il posto di figli. Per esempio, che non sappiamo quando, ovviamente non sappiamo che l'opportunità dell'Occumenico-Patriarchico che non sappiamo quando. Il padre Iusuf era una volta con i pazienti. Sì, lo conosco. Sì, però, dopo averlo fatto, questo non ha fatto nulla con il logismo. o dal gnomes di gente, in un'evitare in un'evitare in un'evitare in un'evitare. E ora, in quanto riguarda il tema della risposta, se avessi dovrebbe essere con i giudici, o con i non giudici, che ascoltarono il paese, era un'evitare molto importante, perché è ancora importante, perché era anche un'evitare, perché era il suo nome di aiuto. Oggi i giudici, i paliomirologei dei zilontoi, che ascoltano il paese e non avevano una città. Ci sono altri, non avevano i paliomirologei dei sottotitoli, ma avevano una città di l'Ecclesiare e con la paese, anche se ascoltano il paese. L'apascoloso questo tema, e ha fatto una prensione, e ha preso una informazione che deve lasciare i paliomirologei dei zilontoi. E così, poi, con gli altri, con i paliomirologei dei zilontoi. Ma non è il monello. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Poi, player, gli aspetti a loro non lavoro quando si stanno a la casa. Il G. Platone, col Bravo, è col resto, ovverso di Purazzelli, che era più di 10 anni, il G. Efraim, del Arterno di 개�ńario, 5 anni di anni. Non ral Leave a me non lavoro. Noi, le vula l'orano quando si stanno a casa. Ne pate il dono. Sono un'lice di un'lice di un'lice. Ai mi dice. Allora, allora, è un'lice di un'lice di un'lice. E 네… sei, ma che è un'lice di un'lice. Passato… Ma lo ha chassolato con il futuro con il tuoirsiniz e non è molto importante. È che ha fatto una domanda, ma a chassolato O padre ROVATO, me lo ha detto o papa ha chassolato, non è una domanda. È che ha fatto il vostro... Ma lo mi riempito. Ah, io mi riempito, non le riepi. Ecco di signalizzazione. Ecco di signalizzazione, mesi che graziate. Ma qualcuno che vorrei che tenni alla todos i cittadini? Leggono questa cosa. Non, non ci si che pungono nella comunità... Due allui che pungono nella comunità che vengono nelle qualità. ...che... ...che sono quelle le le così... ...che è un peggono allora... ...che sei! ...o Rupor UoS, ...pastro. ...che città... ...ve Kids, Sì la mia figlia, non è comunque più il suo svere. Si torna l'acqua. Tornamavo il mio padre Efraim dono quattro non ciò che... Giammi il mio padre Efraim dono quattro non ciò che era... Poi? Poi si tornavasse questo? Poi il mio padre Efraim dono quattro non ciò che era. ... E r만 bene sa attimale e orla stenistica Ma demamina e io è qualche qualsiasi Poi ci sono? Poi cosa vuole ne vengare? Poi che sono io? 5 anni 8 o? 59, 59 ancora 59 ore E questo lo puoi troverà vieni? Occhina, non ho detto, è come un esempio. Ma risentiamo. Ma mi raccomando. Ma mi raccomando. Premi da però. Ma siamo adulti, però non è nemmeno. Ora, il tempo, il gioco di me lo dice Io lo saidarmo senza nulla ma consulted, lo sai è il pre ko l'oltoso padre. Il padre Giuseppe, il il padre Giuseppe. Si è il padre Giuseppe. E' il padre Giuseppe, che è il padre Giuseppe, che era il pre ko, l'oltoso padre era il padre Giuseppe del pap done. Questo è ovunque tutto ciò che leivale esci di surgeoni. È il paper Peki QU horizontale... Sto vio che ha scritto, avete già visto il suo vio? Oudempo dice questo! Questi sono le dici! Sì, diciamo che non sono. Sì, sono i pazienti, non sono i pazienti. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, 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 non lo so. Ma dov'io mi perpetuare dov'io,alfizzi da 30 anni, non lo so, un pazienti che scorre, non lo so, non lo so che non lo so, non lo so che non lo so priganti, non lo so che non lo so ries. Ma sono i pazienti adesso, non lo so, un pai, da non lo so sta sto, non lo so che non lo so, non lo so che non lo so, non so. Si si non lasみたいai constantly ha lasciato, non la loro so che non lo so. Ma non racgetati? Ma non lo so ma non lo so, non hai l'indella solo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.